Musica Se vuoi acquistare FIFA Points a pressi davvero davvero bassi Passa da FIFA Points Market, pagina italiana, sicura e rischio ban minimo E utilizzando il codice Lazza avrai 5% di sconto sull'acquisto Link in descrizione Ok comunque ragazzi siamo riusciti a fare la squadra Che è questa Questo grande, credo che sia il draft più brutto che mi è riuscito Andiamo a vedere completa la mia rosa Vediamo se ci riesce magari qualcuno di più forte Vediamo, 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 vediamo No, 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 no Oh Bale, ok c'è uscito Bale Ci becchiamo tra pochissimo che metto a posto la rosa Ok dunque ragazzi questo qui è il massimo che sono riuscito a fare Me ne sono riusciti praticamente in difesa Avete visto anche voi tutti, erano tutti con il link rosso Dunque ragazzi scegliamo l'allenatore Vediamo se magari ci aumenta un attimo di più l'intesa Vai per Martinez Questa è la squadra Vediamo anche il ripieno E nulla Andiamo dentro con la prima partita Ok ragazzi chiamano di maglietta così diciamo il giorno dopo Ma comunque sono dettagli Siamo con questa squadra Con anche lui a Messi, Hero, poi vedo Griezmann, Iniesta, Bellerin come difessore centrale Pique e poi c'è in porta Check, record breaker Poi anche Coutinho, Zil e Alberto No Moreno Mi pare che ha la terza sinistra Questi sono diciamo quelle delle carte speciali, quelle più forti Dunque ragazzi speriamo di vincere Ci distendiamo subito con Casorla Scarta 1 Casorla Casorla ha visto Bale Ha visto che partito Bale Bale, Bale No, fuori di pochissimo Buona però, buona ripostazione di gara Merda Ho sbagliato io Recupera ti prego Dio Abbiamo subito il gol Porca puttana Cavolo, cavolo Siamo nella merda un po' Buona chiudere l'1-2 Vai mettile in mezzo Vai Casorla Segni ti prego Casorla No, check Mannaggia Buona per Messi Vai Messi 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 No Incrocio pieno Bravo Bale Bravo Bale Vai Bale No Pareco Madonna Eccolo là Anche il secondo E vai Andiamo Porca vacca Che palle E finisce quindi Ragazzi al primo tempo Finisce qui 2 a 0 Per loro La squadra c'è Facciamo anche gira bene la palla Solo che boh I gol non arrivano Come cazorla Dentro per Messi 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 Buon mare Messi In rete 2 a 1 Dai che andiamo Anaga Dai che andiamo Anaga Dai che andiamo Vamos Vamos Puta madre Buona finta di Bale Vai Bale Che puoi andare Si cazzo Bale 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 Nella di rigore Bale Go della merda No No Non è possibile Vai partire Messi Dai che te lo bruci questo Messi Dai che lo bruci Bravo Messi Nella di rigore Messi 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 2 a 2 65esimo Si pensa a lui La rimette in piedi Dai cazzo Bravo parecco Per la sponda Allarga Buona Vai che andiamo dentro Come Vai che andiamo dentro Come le patatine fritte Vai che andiamo dentro Vai Messi Mettila al centro Niente Fermato da Alberto Moreno Cosa ora Cosa al centro Su deviazione La mettiamo dentro Ultimezione Centrale Un giochi Cazzo Abbiamo segnato Per la gol 3 a 2 Balenziaga Grande cazzo Anche un po' fortunati Però ci voleva cazzo Ci voleva Via No Ma l'azione dopo Ma lo sapevo ogni volta Ogni volta L'azione dopo Prendiamo gol Buona Vai Suarez No Che azione che è riuscita Signori Guarda che culo Che hanno questi Non puoi farmelo con Grisma Non puoi farmelo con Grisma Grandissimo Leno Compareco Che la prova d'era Messi E' tua Messi E' tua Messi Daniele del rigore Messi La finta Messi Ancora lui Messi Messi Tiene la palla Check Uno lì Bail No No Cosa mi ha preso Check Cosa mi ha preso Check La palla è dietro Però possiamo Ma è pareco Pareco Lo scarta Pareco Pareco No Danieles Danieles ha gol C'è in gol E' gol Che siamo su un gioco E' il piano cazzo Che partita signori Che partita 230 likes subito E finisce qua raga Finisce qua Abbiamo cenato l'ultimo secondo Dani Alves ci porta ai quarti di finale di questo foot draft Ok dunque ragazzi Seconda partita di giornata Ok Squadra Abbastanza buona Devo dire Suarez 95 Di davanti Draxler Man of the match Porca puttana Già 1 a 0 Che cazzata Che ho fatto Ma porco 2 Partiamo con Bale Noi però Partiamo con Bale Non ci sta a perdere Bale Subito La mettiamo Come era prima Con un pareggio 3 minuti di gioco Già 2 gol Buona Messi Mi prego Vai dentro Messi Vai Messi Vai Messi Sì 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 2 a 1 2 a 1 Grande Messi De Gea ci ha dato anche una mano a buttarla dentro No ma Oh ma ogni partita Ogni partita Faccio gol Io fa gol lui Ma porca puttana Bravo Gaia Vai Gaia Suarez 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 No L'avevo vista dentro Vai caccio d'angolo Stacca di testa Chi è? Ama Yalla Come cazzo De Geami Stacca di testa Mamma mia che stacco Signori Porca puttana Dove ho andato a prenderla 3 a 2 Amaia Amaia Merda È partito Suarez È partito Suarez Gol 3 a 3 Neanche un tempo Già 6 gol E dunque ragazzi Finisce qui il primo tempo Parziale di 3 a 3 6 gol Ma vaffanculo Vaffanculo Che gol Ma porca troia No 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 Porca troia Porca troia 5 a 3 Vai Bail 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 5 a 4 5 a 4 Dai che manca ancora Mezz'oretta Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Sì Mamma mia Parti Bail Gol della merda qua Gol della merda Gol della merda Gol della merda Gol della merda Comeback Second comeback Al novantesimo Bail Per Suarez 5 a 5 Ce l'abbiamo fatta raga Quindi ragazzi Finisce qui Ci andrà ai supplementari No no Müller No Müller Ancora Müller Bastardo Cazzo No 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 È finita ora Ora sono sicuro Che è finita Perché non riuscirà mai A rimontare Quei due gol Buona Suarez Vai Suarez 7 a 6 7 a 6 Ora tutto è possibile Ora sì che è possibile Ora sì che è possibile E quindi raga Finisce qui 7 a 6 Non siamo riusciti a rimontare Però ragazzi Quanti gol In due partite Che video ragazzi Minimo 230 Mi piace Vediamo il premio Sono sempre i soliti pacchetti Di quando usciamo Alla seconda partita Quindi Partiamo subito Con il primo argento Vediamo con Il Kunaware in copertina Vediamo Primo pacchetto CDC Algerino No Tunisino Sahi Vai con quello oro Con la pulce Le ho messi in copertina Vediamo Merda Fernandez L'ho trovato Ultimo Pacchetto Oro Premium Questa volta Con Hurricane L'Uragano In copertina Road Che ha il microfono Quello là Che ho lì Quindi ragazzi Questo video finisce qui Spero vi sia piaciuto Un bel like ragazzi Arriviamo a 230 Mi piace Se volete vedere un altro Episodio di questo tipo Cioè la Fancall Draft Challenge Oppure se volete vedere un altro Episodio Strutturato in questa maniera In cui io Vi chiamo Come al solito ragazzi Vi salete da Diego Magli Like in descrizione E con il codice LASA Avrete 5 euro di sconto Su un acquisto Passate anche da FIFA Points Market E con il codice LASA Avrete 5% di sconto Su un acquisto Facebook Twitter E Instagram In descrizione Iscrivetevi al canale Se non ho ancora fatto Che dire ragazzi Qui da Relazio è tutto Ooooooo Bello Inoltre ragazzi Se volete acquistare Completini da calcio Passate da Diego Magli Il link in descrizione E con il codice LASA Avrete 5 euro di sconto Su ogni acquisto